Benvenuti alla sesta lezione del corso di montaggio video con Adobe Premiere. Bentrovati, sono Fabio Ambrosi e anche quest'oggi vi insegnerò quello che so in base alla mia esperienza su Adobe Premiere. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto come scaricare ed installare Adobe Premiere, abbiamo visto come creare il nostro primo progetto con Adobe Premiere. Se non l'avete ancora visto queste lezioni andatele pure a recuperare sul mio canale YouTube, iscrivetevi e seguite la playlist del corso di montaggio video. Quest'oggi vedremo come lavorare, iniziamo anzi a vedere come lavorare con Premiere e cerchiamo di capire in questa lezione e di studiare in quale modo Adobe ha deciso di organizzare i tantissimi strumenti che ci vengono forniti con Adobe Premiere per lavorare il nostro materiale multimediale. Cosa vuol dire? Vuol dire che Premiere ovviamente ha tanti strumenti, ha strumenti per lavorare l'audio, quindi ha dei mixer, ha degli strumenti per lavorare il colore delle nostre immagini, quindi ha tutta una serie di tool per modificare la luminosità, il croma, eccetera, eccetera. Ha tanti strumenti che servono per la grafica. Se noi volessimo inserire delle scritte, chiaramente Adobe ci dà la possibilità, senza usare altri programmi, di scrivere quello che vogliamo sopra i nostri video e così via. Quindi tutti questi strumenti Adobe ce li fornisce così, di default, dentro a Premiere. È chiaro che tanti sono gli strumenti, ma lo spazio per lavorare è limitato. Sostanzialmente è quello del vostro monitor, quello dei vostri monitor, se siete fortunati e avete la possibilità di lavorare con due schermi. Però comunque sempre uno spazio limitato è. Come fa quindi Adobe ad organizzare tutti questi strumenti per permetterci di lavorare senza, diciamo, lavorare in porzioni microscopiche di schermo? Semplicissimo. Adobe organizza tutti gli strumenti con l'ausilio di pannelli. Quindi un pannello di Adobe sostanzialmente è un contenitore dove all'interno possiamo trovare tutti quegli strumenti che servono ad un determinato scopo. Quindi per esempio, quando andremo a lavorare con il colore, ci sarà un pannello che sostanzialmente sarà dedicato alla color correction. Quando lavoreremo con la grafica, esisterà un pannello che ci darà tutti gli strumenti per lavorare con la grafica e così via. Davanti ai vostri occhi già vedete alcuni pannelli aperti anche se sono pannelli completamente vuoti perché ancora noi dobbiamo iniziare sostanzialmente a lavorare quindi non c'è nulla ancora con cui lavorare quindi i pannelli che vedete davanti a voi sono vuoti. Però per esempio potete trovare e vedere il pannello dedicato a quello che noi andremo a visualizzare quando monteremo, il pannello programma. Trovate già il pannello sorgente che è dove finiranno le previsualizzazioni, le anteprima delle clip che noi andremo a lavorare. Esiste già il pannello timeline dove compariranno i singoli blocchettini un po' come i Lego delle clip che andiamo a lavorare e così via. Tutti questi pannelli chiaramente possono essere organizzati come noi vogliamo. Possiamo ingrandirli, restringerli, anche chiuderli perché come dicevo non tutti i pannelli sono utili magari in un determinato momento. Se per esempio volessimo ingrandire il pannello della timeline perché vogliamo più spazio per lavorare se noi con il cursore del mouse ci posizioniamo diciamo sopra questa linea azzurra che delimita il pannello in questo momento attivo vedete che il colore della forma, l'immagine del nostro cursore del mouse cambia noi cliccando con il tasto sinistro del mouse e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse ci spostiamo sempre con il mouse e come vedete possiamo ingrandire o restringere l'altezza del nostro pannello allo stesso modo possiamo allargare o restringere il pannello basta posizionarci sul bordo sinistro, cambia l'icona del mouse clicchiamo con il tasto sinistro e spostiamo vedete che sostanzialmente la larghezza del nostro pannello timeline viene modificata non l'ho detto ma lo dico subito chiaramente il pannello che è attivo in un determinato momento lo riconosciamo subito perché è circondato da una bordatura blu in questo caso è attivo il pannello timeline ma se io cliccassi all'interno del pannello programma vedete che viene attivato un bordo blu intorno al pannello programma stessa cosa per il pannello sorgente stessa cosa per il pannello progetto però come vi dicevo i pannelli sono tanti potremmo aver bisogno di lavorare contemporaneamente con tanti pannelli e come organizza Premiere lo spazio di lavoro quando abbiamo bisogno di avere tanti pannelli aperti ecco già lo vedete come potete notare esiste il pannello progetto ingrandisco così potete vedere meglio magari che è importante eccoci qua c'è il pannello progetto e al suo fianco troviamo altre scritte quindi browser, multimediale, libraries, info eccetera eccetera chiaramente tutte queste scritte stanno ad indicare che all'interno di questo spazio esistono annidati altri pannelli cosa vuol dire? vuol dire che in questo momento è selezionato ed è attivo il pannello progetto, capitolo 6, area di lavoro e bla 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 se io cliccassi sopra la scritta browser multimediale guardate cosa succede viene aperto un altro pannello ok? in questo caso lo vedremo nella prossima lezione è il pannello che ci potrà aiutare anche ad importare materiali stessa cosa per il pannello libraries librerie, lo vedremo molto più avanti nel corso è un pannello dove poter importare delle librerie aggiuntive di Adobe Premiere e così via se notate due freccettine come queste su cui è posizionato adesso il mio mouse vuol dire che esistono altri pannelli annidati in questo spazio di lavoro ok? se io cliccassi sopra risposto un pochettino sopra queste freccettine vedete che compaiono altri pannelli che sono sempre annidati dentro a questo spazio quindi per esempio c'è il pannello degli effetti ci clicchiamo sopra e vedete che sempre all'interno di questo spazio viene aperto il pannello effetti cosa vuol dire tutto questo? vuol dire che noi all'interno di un'area specifica di Premiere possiamo annidare e mettere vicini tanti pannelli che magari possono esserci tutti utili e tutti indispensabili in un determinato momento della nostra lavorazione ok? ipotizziamo però che un pannello in un determinato momento a noi non serva nulla ad esempio il pannello info magari in questo momento non ci serve a nulla e noi lo vogliamo chiudere perché magari occupa uno spazio che vogliamo dedicare ad altro come si fa a chiudere un pannello? come vedete ringrandisco vicino al nome del pannello esistono tre trattini ok? se noi clicchiamo solo questi trattini abbiamo la possibilità di modificare alcune opzioni ok? clicchiamo e vediamo che tra queste opzioni c'è la possibilità di chiudere il pannello quindi adesso clicco sopra i tre trattini vicino al nome del pannello info chiudi pannello e come vedete il pannello magicamente sparisce dalla nostra visualizzazione ok? guardate non è nemmeno più presente tra i pannelli annidati in questo spazio di lavoro cosa vuol dire? che il pannello info è completamente sparito da Premiere? assolutamente no è semplicemente stato chiuso ok? quindi ricapitoliamo abbiamo dei pannelli che hanno degli strumenti per lavorare il nostro materiale questi pannelli possono essere ridimensionati spostati allargati come vogliamo e questi pannelli possono essere anche annidati tra di loro nel caso volessimo avere in un unico spazio del nostro progetto più pannelli aperti contemporaneamente ok? c'è un'altra cosa che non vi ho detto ipotizziamo che noi il pannello effetti non lo vogliamo vicino al pannello progetto perché magari siamo abituati ad avere tutti i nostri effetti sempre visibili e vogliamo lavorare con gli effetti in maniera più rapida no? di quanto potrebbe esserci permesso dal dover aprire ogni volta il pannello effetti come possiamo spostare il pannello effetti bene come vi dicevo prima come se volessimo allargare questo pannello è sufficiente cliccare sul bordo e trascinare noi cliccando sopra il nome del pannello in questo caso effetti e trascinando vedete che Adobe illumina determinate aree cosa indicano queste aree? guardate si accende un'area blu all'interno di questo spazio cosa vuol dire? io sto sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e ho cliccato sopra al nome del pannello quindi clicco sopra il nome del pannello effetti e trascino tenendo premuto il tasto sinistro del mouse si accende una luce blu chiamiamola così un'area blu vuol dire che noi questo pannello effetti quando rilascerò il mouse verrà spostato in quest'area del nostro spazio di lavoro guardate lascio il mouse e vedete che il nostro pannello effetti è stato spostato da questa posizione a questa posizione ma come fare a lasciare solo il pannello effetti senza che condivida lo spazio con altri pannelli? lo vedremo nella prossima puntata quando vedremo anche come salvare dei preset per poter richiamare con un solo click l'organizzazione dello spazio di lavoro come noi vogliamo alla prossima lezione che è stato spazio di lavoro Grazie a tutti.